Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giordano Massorri Nome della start-up? Appin, Appen Appen, cosa fa? Diciamo, ti crea la tua app, il tuo mock-up, disegnandola a mano poi la fotografi, la importi nel telefono ti crei i link tra le varie schermate disegnate a penna e hai la tua app interattiva Subito pronta? Subito pronta Grazie